se l'assemblea me lo concedi andrei a cominciare il tema direi che è politico l'assemblea prova all'unanimità quindi partirei dalle mie origini politiche quindi da quelle emiliane da quelle di reggio emilia allora io vengo dalla città di camillo prampolini che è stata una sorta di come dire profeta del socialismo dal volto umano una figura importantissima un po' caduta nel dimenticatoio negli anni duri dell'avvento del fascismo quindi diciamo tra gli anni 10 gli anni 20 gli anni 30 fu una figura un po dimenticata oggi camillo prampolini è stato recuperato è stato uno dei fondatori socialismo italiano era di reggio emilia fondato la prima casa del popolo la prima cooperativa e proprio in assoluto in generale e attualmente la piazza principale di reggio emilia piazza prampolini è la piazza del duomo e di fianco la piazza del municipio sono sulla stessa piazza si guardano una fianco all'altro non solo uno di fronte all'altro ma una fianco all'altro io sono nato però negli anni 60 nel 67 esattamente 17 anni dopo i morti di reggio emilia qualcuno sa di che cosa parlo quindi quando spararono una piazza sindacale a reggio emilia davanti al teatro valle e al teatro ariosto dove morirono sette compagni sparati dalla polizia dopo quegli episodi assieme ai disastri di genova e altri luoghi cioè ci furono tanti episodi in quel luglio del 60 la canzone l'ha fatta un torinese peraltro sui morti di reggio emilia perché i link anche se la parola è orribile tra l'emilia e torino sono infiniti questa sera ne scopriamo tantissimi per esempio che a modei fosse torinese io non me ricordavo vedi che tutto si tiene inizio ho iniziato la mia in quella città la città dei morti reggio emilia la città dove quando io sono diventato adolescente il partito comunista su 470 mila abitanti nella provincia aveva 55 mila iscritti 55 mila su 470 mila abitanti a reggio emilia se volevi far politica c'era il pc il pc eventualmente la federazione giovanile del pc e il pc tutti gruppuscoli tutto quello che si vedeva a bologna che per me era lontanissimo all'epoca non era visibile erano pochissimi e molto mal visti io ho iniziato a fare politica in un posto che si chiama questo qua palazzo masdoni è un palazzo enorme del centro storico un palazzo del 600 è un palazzo che ha una storia bellissima che adesso vi racconto molto velocemente era una sorta di botteghe oscure di reggio emilia stiamo parlando di 15 mila metri quadrati ripeto 15 mila metri quadrati nella mia adolescenza lavoravano dentro la federazione 100 funzionari e una trentina di impiegati cioè era uno dei posti di lavoro più grossi della città una città fatta da piccole e medie imprese quindi io vengo da quel mondo lì a un certo punto vivevo la militanza lì dentro una mattina arrivò mia madre avrò avuto 18 19 anni arrivo mia madre con un cabaret di paste alla sede della figici sono quelle tre finestrelle piccoline inferiate su questo lato quale vedete una due tre sopra quella porta con l'arco una due tre dove c'è la telecamera quelle tre finestrelle lì erano gli ufficetti un po bassi della federazione giovanina arrivò mia madre con un cabaret di paste i compagni la guardarono non sapendo che era mia madre io guardai mia madre dicendo che cacchio ci fai qua e mia madre fa è ho portato le paste perché volevo venire a vedere con chi vive mio figlio perché praticamente io non me ne andavo mai a casa ho fatto una visita di recente perché ovviamente poi il partito non esiste più e ha privatizzato tutto questo palazzo è stato privatizzato da un luogo collettivo per 40 anni sede della sede del partito comunista questi sono gli interni se volete questo è uno dei saloni forse anche sono del comitato federale della figici ma non me lo ricordo comunque quella roba lì ce n'erano decine di questi saloni arredati così mortuario andò così nel dopoguerra ci fu una legge che impedì ai partiti politici della resistenza dalla dc al pc a tutti quelli che vengono in mente di restare nelle sedi che avevano occupato alla caduta del fascismo a reggio miglia il partito occupava quello che oggi è l'archivio di stato di fianco una bella caserma dei carabinieri il partito dovette lasciare quella sede e comprarsene una ma secondo voi la famiglia proprietaria di questo palazzo i borghesi di questo palazzo avrebbero venduto al partito comunista all'epoca la lotta di classe era una cosa più complicata di quella di adesso purtroppo e quindi non volero vendere al partito comunista assolutamente vendettero a un avvocato molto facoltoso della città convinti di aver risolto il problema di non vendere al partito comunista avrete già intuito che l'avvocato comprò palazzo masdoni con i soldi del partito e un minuto dopo che fece il rogito il partito traslocò dall'archivio di stato dove stavano per buttarlo fuori in questo palazzo che ha occupato per più di 40 anni è stata la mia palestra di vita la mia palestra politica l'ho rivisitato di recente e poi vi racconto com'è andata la visita che ho fatto oggi appartiene a un avvocato un altro avvocato ci ha messo vent'anni a restaurarlo e non ci ha più messo piede dentro praticamente nessuno una cosa che era di tutti è diventata di nessuno palazzo masdoni la sede del partito è stato venduto nei primi anni 90 mi scrissi da ragazzino scegliendo la politica in pieno riflusso le mode in periferia arrivano dopo a me che venivo dai quartieri popolari questo grande edificio antico e nobile trasmetteva autorevolezza e un senso di civiltà fortissimo ci stavo talmente bene che la militanza ad un certo punto occupò tutto il mio tempo tutto il custode di quel luogo brulicante di funzionari impiegati attivisti giovinastri di varia natura era paris bulgarelli paris abitava in un appartamento dentro la federazione provinciale con la sua famiglia il ricordo più tenero che ho di quegli anni è che io volevo essere come questo paris perché lui abitava proprio lì la cosa che desideravo davvero in quel momento era poter stare sempre là dentro viverci in una stanzetta tutta per me in modo che il partito diventasse letteralmente anche la mia casa oggi lavoro a poca distanza dove sognavo di traslocare ai tempi passo davanti a palazzo masdoni quasi ogni giorno quel portone ormai chiuso reclama anche adesso il candore di allora ho rivisitato vent'anni dopo che era stato definitivamente venduto e chiuso questo palazzo nel 2015 e l'ho visitato una mattina molto presto a me non piace alzarmi presto ma per questa cosa mi sono alzato molto presto perché questa visita l'ho organizzata massimo zamboni dei ccp csi quindi mi sono messo d'accordo con lui lui si è messo d'accordo con me e abbiamo visitato insieme il palazzo che era verso la fine del suo restauro un restauro durato conservativo durato veramente vent'anni che non so quanti milioni di euro si è accostati non i miei e abbiamo girato con il capo cantiere ma io volevo andare a vedere i luoghi della mia militanza quindi il salone del comitato federale gli uffici del partito gli uffici dei funzionari che io frequentavo la figici questo tizio ci fa fare tutto questo giro e a un certo punto io gli chiedo scusa a Zuliani si chiama Zuliani l'impresa di Albinea Zuliani ma non avete tenuto insomma il partito stava 40 anni non avete tenuto niente di quello che era stata la presenza del partito comunista in questo palazzo immenso e Zuliani che era figlio di uno storico democristiano mi ha risposto così guardando zamboni atterrito non abbiamo lasciato niente del passaggio dei barbari compagno sola tocca a te grazie sono Enrico Vladimir libero sola sono stato concepito a Leningrado nel 1973 ma nato a Torino nel 74 nell'unica data fascista che c'è ad aprile che è il 21 aprile meglio del 20 in cui sono nati Hitler e D'Alema io sono nato il giorno di Iggy Pop della regina di Inghilterra di Robert Smith me la cavo vengo da una città in cui il partito era operaio la città era operaia e vengo da quello che viene definito il laboratorio ricerca e sviluppo della sinistra da sempre in Italia Torino si sperimentano le cose di sinistra prima degli altri ok inclusi grillini buoni scusate è una battuta vengo anche dal partito che in virtù di questo nominava più dirigenti nazionali in assoluto in tutto il gruppo dirigente romano pensate che fino al 1959 non so perché in questa data forse nel 60 si sono date una regolata spesso nelle direzioni quando gli animi si scaldavano a Roma si parlava in piemontese tanto si capiva tutti o erano piemontesi o erano torinesi o c'erano passati perché perché faceva parte la visita fatemi dire militante la formazione militante a Torino della vita del comunista italiano quasi come una visita alla Mecca per i musulmani ok senza pietra nera però vengo dal partito nativo di Antonio Gramsci che pure da Ghilarza venne qui preso un sacco di freddo e nella cui casa ora c'è un hotel a quattro stelle con pretese di lusso peraltro di proprietà di una nota figura del centro-sinistra torinese tutto torna o forse tutto va e vengo da un partito lievemente rigido un pochino diciamo vengo anche dal partito che nasceva dalla resistenza che ha guidato la resistenza in quest'area pensate che nella provincia di Cuneo intorno ad Alba che poi Alba in provincia di Cuneo solo geograficamente c'erano talmente tanti partigiani comunisti che c'era una sorta di calciomercato e venivano intruppati in altre brigate mio nonno per esempio finì intruppato che mio nonno è uno di quelli che rimasero poi ventitré giorni della città di Alba che resistette venne intruppato con giustizia e libertà con i giellini e vorrei leggere una cosa su mio nonno perché come potete immaginare dall'immagine mio nonno era un eroe un eroe scusate sei rimasto solo tu e quello che mi sento dire dalla gente che mi passa di fronte mentre faccio la cosa che mi viene peggio in assoluta persona triste a un funerale io sono una persona che non si intristisce mai sono del toro sono abituato alla tristezza eppure sono dietro alla banda che sta suonando quella versione spacca a cuore dell'internazionale che fanno i funerali se siete stati a qualche funerale di padri fratelli del partito lo sapete il nonno è morto e il nonno era un eroe i suoi compagni sono venuti a salutarlo hanno i distintivi il gonfalone la medaglia d'oro qualche bastone un paio di lacrime e soprattutto la faccia di gente che è abituata al dolore sono partigiani gente che è forte dei loro vent'anni remoti salutano commossi la bara e si chiedono chi sarà il prossimo e poi mi guardano tutti mi passano in rassegna uno di loro mi dice in piemontese lo dico in italiano per beneficio di voi del tacco sei rimasto solo tu tuo nonno era un grande uomo un compagno coraggioso un eroe poi non sa più che dire perché evidentemente aveva una faccia terribile e mi abbraccia mai visto prima vengo abbracciato da uno sconosciuto che mi getta addosso questo pezzettino di responsabilità un eroe poi io sono cintura nera di meschinità in confronto mio nonno Quintilio Sola si chiamava era un contadino atleta di vezza d'alba era campione regionale di box era alto 1,85 che per la sua generazione che ha fatto la fama voleva dire essere un gigante e aveva una discreta fama e una forza incredibile ed era bellissimo tanto che il suo soprannome da partigiano era Rodolfo come Rodolfo Valentino pensate che era così forte che per tutta la resistenza lui era tornato a piedi dalla Russia per capirci con le scarpe di cartone ha portato con sé una mitragliatrice sovietica da tre piedi avete presente? così ma lui la portava a braccio aveva un rinculo che credo spostasse tre vacchie in un colpo solo e lui sparava tenendo a braccio questa mitragliatrice come Rambo esattamente come se avete mai visto il primo Rambo First Blood lui usa una mitragliatrice da campo a braccio la vedete qui non è un fucilino da due soldi pensate che a pagina 121 di Banditi di Pietro Chiodi un libro in Audi scritto a caldo sulla resistenza mio nonno salta fuori dalla boscaglia sbuca tipo commando in verità da una bialera la bialera sempre per voi del tacco sono i fossati lungo i campi e con la sua mitragliatrice da trincea a braccio fulmina un'intera colonna di gente della Franti per questa roba ha preso la medaglia d'oro ad Alba c'è una via che si chiama come lui la banca dove ho tenuto i soldi per anni ha una sala a quintilio sola questo non gli ha impedito di farmi dei tassi di interesse mostruosi e fanno la campagna la mia banca è differente sì nel senso peggiorativo del termine avete capito che banca è bene quell'eroe è lo stesso uomo sconfitto dalla malora costretto a emigrare finito nei reparti punitivi per i rossi in Michelin negli anni 50 che ha subito il processo per diserzione che è stato fatto ai partigiani che ha nascosto le armi sottoterra nella tartufaia che all'epoca era una betullaia di famiglia si è fatto i disordini di Genova nel 60 gli scontri i ragazzi con le magliette a righe nel 62 in piazza statuto e ha definitivamente perso questa generazione che aveva regalato al paese la vittoria più grande la libertà sono al funeral di quest'uomo e tutti mi guardano mi scrutano mi analizzano mi valutano è strano il 1999 io ho 25 anni scusate non sono bravo di matematica sento la mia inadeguatezza però non scappo mi guardano e mi sento a casa io non so come chiamare quella familiarità per cui degli sconosciuti che hanno il triplo dei miei anni sono lì e mi fanno sentire sereno nonostante mi stiano giudicando ecco forse per me quella cosa lì è il comunismo la serenità di essere parte di qualcosa di giusto di condiviso di silenzioso qualcosa di nostro più grande di noi aggiungo che io mi sento comunista soltanto ai funerali quando solo di fronte alla rottura di una continuità sento i fili che mi legano a chi resta e sono fili che si vedono solo quando si spezzano il funerale finisce la banda ovviamente manda via questa fischia il vento un po' dark la gente torna le villette a schiera perché tutto questo avviene a Borgaro Torinese che è un triste paese di cui mio padre è stato sindaco per vent'anni partono tutti se hai bisogno chiama però uno degli ultimi partigiani si attarda sembra quasi che preghi poggia la mano su questo brutto loculo dove hanno seppellito mio nonno forse sta pregando forse sta parlando sta dicendogli qualcosa guarda mio padre se scambiano un segno evidentemente si conoscevano parlano col mento come fanno i piemontesi senza dirci niente poi si avvicina a me mi guarda negli occhi mi metto una mano pesantissima sulla spalla un po' tremolante e mi dice mi gira quasi la testa mi fa guarda tuo nonno io guardo sto loculo sai perché era un eroe perché ha salvato tante vite in guerra ma soprattutto per una cosa perché non c'è pezzo di pane durante la guerra che tuo nonno non abbia spezzato in due anche quando non ce n'era bisogno comportati bene e stai attento si vede che sei un compagno e non sarà facile e poi va via mi lascia lì col testimone in mano a cercare il traguardo questo racconto si chiama staffetta partigiana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti